ciao a tutti mi presento come ha detto sebastiano sono radio amatore non dico l'anno ma ho 52 anni sono radio amatore da quando ne avevo 16 che è la minima età di quando si può fare la patente perché per diventare amatori bisogna fare un esame quindi fatti i calcoli voi quello cos'è che vediamo oggi allora non riguarda molto i radiomatori ma riguarda più la rete io sono stato coinvolto ero responsabile della rete del vrtc e adesso spiegheremo cosa intanto il vrtc il vrtc sostanzialmente i radiomatori hanno tra le varie attività hanno anche le gare chiamati contest cosa sono sono sostanzialmente delle gare in cui vari radiomatori in varie categorie si collegano tra di loro e sostanzialmente l'obiettivo in generale senza andare sulle singoli regolamenti perché ogni diciamo ogni contest al suo regolamento sostanzialmente bisogna collegare più stazioni possibili tendenzialmente da più country possibili quindi se facciamo più extra europei abbiamo più punteggio di rispetto a se colleghiamo uno che è qua in italia quindi a seconda del regolamento ci sono non posso spostarmi scusami quindi cosa come funziona in questo caso bisognava collegare più stazioni possibili possibilmente fuori dall'europa perché naturalmente più distante alla stazione più è difficile collegarla più ai punteggio inoltre per farla breve ogni country collegato quindi se io collego un francese un tedesco e un americano la prima volta che lo collego essendo primo country mi fa anche da moltiplicatore il punteggio è dato dalla somma dei punti per i moltiplicatori faccio l'esempio se collego dieci persone che mi danno un punto dall'italia e ho fatto dieci punti se invece collego dieci europei che mi danno anche dieci moltiplicatori è dieci per dieci o 100 punti quindi moltiplicatori hanno una certa valenza cos'è il vr tc il vr tc raggruppa a queste gare ce ne sono varie all'anno si è deciso di qual è la sostanza la problematica è che ognuno opera con antenne diverse potenze diverse posti diversi quindi non si mette mai di per sé uno a omogeneità e quindi non si riesce a capire qual è il più bravo operatore cos'è che hanno deciso di fare hanno deciso di fare una classifica iniziale composta da una serie di contest per cui raggiunto un certo punteggio uno aveva diritto a entrare nel vr tc nella classifica vr tc dopo lo vediamo un po meglio e a parte i diciamo i primi anni in cui si andava tutti nello stesso posto ma su stazioni diverse quindi con caratteristiche diverse diciamo che dalla finlandia in poi si è deciso anzi più che altro dalla russia sono stati tutti messi sullo stesso posto più o meno nel senso che nel raggio di 50 chilometri che nelle hf non è così predominante tutti con la tenda tutti con la stessa antenna tutti con quindi tutti lì e da lì è iniziato diciamo ha fatto storia da quel momento tutti hanno fatto così come vedete adesso da un certo punto è iniziato ogni quattro anni 2018 è stato in germania 2022 in realtà 2023 perché è stato spostato per un anno per covid quindi a luglio 2023 tra due mesi fa è stato fatto in italia qual è la problematica di questa cosa è che ci sono 60 squadre che arrivano da 60 posti sparsi per il mondo quindi dalla nuova zelanda brasiliani americani tedeschi non russi quest'anno per varie ragioni giapponese eccetera che si raggruppano che hanno fatto una classifica durata due anni che hanno partecipato a 24 gare e delle 12 gare dei migliori punteggi delle 12 gare sono riuscite ad entrare in una classifica e si sono posizionati primi e quindi hanno avuto diritto in quella zona di essere i partecipanti al brtc le squadre sono composte da due persone la prima è il team leader cioè quello che ha vinto la classifica il secondo viene scelto dal team leader però in questo caso nell'italia doveva essere comunque dentro i primi 10 della classifica quindi sostanzialmente c'erano 60 squadre 120 persone che sono venute da ogni parte del mondo per in emilia romagna e voi direte dove sono andati in emilia romagna si sono sparsi per 60 agriturismi in emilia romagna queste avevano come ho detto prima stesso palo stessa antenna stesso c'è stessa lunghezza di cavi tutto era uguale per garantire la correttezza naturalmente la stazione ognuno portava la sua radio l'unica cosa caratteristica da avere è che la potenza in uscita dove essere 100 watt e veniva misurata lì c'era ogni postazione aveva un giudice che ascoltava quello che facevano sulla cuffia lui poteva ascoltare la radio 1 radio 2 o tutte e due cioè su un orecchio una sull'orecchio l'altra e aveva uno strumento che controllava la potenza quindi per garantire la correttezza di tutto qual era il problema è che queste sono le postazioni come vedete erano sparse e io devo collegarle mio compito qual era collegarle in internet tutte farle entrare in quel puntino rosso scusate tutte dovevano arrivare su quel puntino rosso dove c'erano i giudici ogni postazione aveva il suo giudice di postazione e lì c'erano i giudici dell'hq cioè quelli che comandavano tutto tra cui io perché gestivo la rete da di là quindi gli obiettivi quali erano era collegare perché collegarli in rete perché ogni collegamento che faceva qualsiasi di quelle istruzioni durante la gara e il punteggio chiamato raw cioè dichiarato ancora da controllare da parte di giudici perché quel collegamento io lo chiamo questo ma vuol dire collegamento scusate quel collegamento deve essere validato perché potrebbe averlo scritto sbagliato quindi a noi interessava avere i collegamenti in tempo reale quindi qualsiasi collegamento che ha fatto uno veniva arrivava anche a noi e il punteggio dichiarato i collegamenti servivano per fare una cosa che è la prima volta che viene fatta in tutti i war e tc che è il cheerleading cos'è il cheerleading è sostanzialmente una cosa che si è scoperta per cui noi italiani colleghiamo solo gli italiani la squadra italiana e non colleghiamo gli altri a questo punto creiamo una differenza nel punteggio quindi per evitare che infatti ci sono state due riduzioni di punteggio proprio dovuta al fatto di questo del cheerleading questo software che non ho che è stato fatto da un altro gruppo elaborava questa cosa in tempo reale e riusciva a fare sostanzialmente a scovare il cheerleading quindi se c'erano troppe stati che con uno stato che collegava troppo solamente il suo come si dice la sua squadra il punteggio dichiarato veniva per fare un po di classifica perché sennò gli spettatori da tutto il mondo che è uno che voleva vedere non sapeva la classifica del e quindi no allora come sono state fatte le stazioni il problema sono state fatte con 70 ripostazioni non 60 ma c'è sempre da tenere che si possono rompere c'è l'emergenza quindi 70 micro t cup light che l'azienda che gli acquistate le ha pagate 17 euro l'uno più viva comprando nei 70 e 40 router tenda 4 gn 300 con delle sim con 100 sim della team in realtà a me ne erano date solo 40 che venivano usate per le postazioni in cui non c'era connettività per quanto riguarda invece il centro stella dove venivano raggruppate tutte le informazioni erano due micro tic ccr1009 su due data center diversi uno era presso di me dove lavoro io e l'altro invece era leppi da bologna questo perché io potevo se succedeva qualche problema su uno dei due data center io potevo sguicciare dopo vedremo come da uno all'altro perché ho un micro tic sostanzialmente perché io avevo un certo budget e mi hanno chiesto di stare aveva già tutto dentro l'app light era veramente al limite perché il traffico è veramente poco perché di solito si fa uno o due collegamenti al un collegamento al secondo scusate un centinaio di collegamenti al minuto quindi non c'è tanto ogni volta un pacchetto html molto piccolo non era niente di traffico però vedremo che l'app light faceva anche altre cose comunque aveva già tutto dentro per cui aveva varie tipologie di vpn firewall scripting eccetera e soprattutto aveva wire guard che è la vpn che ho utilizzato io in realtà si potevano fare altre cose ma ho voluto usare wire guard questa era quello che è che è praticamente la mappa della rete che è stata fatta quello che vedete lì sono 60 riproduzioni cioè quello a sinistra sono in realtà 60 di quelle situazioni lì dove l'ip era 1 10 20 22 1 per la stazione 1 2 per la stazione 2 sono state numerate tutte fino ad arrivare a 60 la stessa cosa in l'interno invece tutti avevano 10 20 23 254 veniva dato un dhcp per 15p in realtà poi è diventato 25 da 26 in su potevano mettersi la mano lì sulla porta 234 si collegavano i pc dei due partecipanti e il pc del referì cioè del giudice la porta 1 il wifi veniva usata per la one e adesso vediamo infatti quali erano le caratteristiche dell'app lato si collegavano tutti al master in qualsiasi caso su un altro data center c'era da etzner c'era il programma quello che fa lo score e che faceva quel calcolo del cheerleading che avevamo detto prima e dall'altra parte dove ero io che praticamente era sull'hotel a castel san pietro dove c'era la parte che era fatta da tre persone sotto che c'è anche lì la loredana e sotto invece c'erano tutti i pc dei referì che vedevano in tempo reale il cheerleading il questo il punteggio eccetera eccetera allora com'è che avveniva il collegamento sogni e gre turismo le possibilità erano tre via wifi cioè la plate faceva da client si collegava alla struttura via wifi e lì c'era circa la metà delle agriturismi due siamo usciti a collegarli in ethernet nel senso che fortunatamente era vicino e gli altri sono stati forniti con il router 4g che devo devo dire mi ha sorpreso molto perché anche su zone in cui io nel raggio di a occhio non vedevo niente c'è sono un campi cioè l'agriturismo era in mezzo ai campi e riuscivano comunque a collegarsi a dare un'ottima banda contanto che a me bastavano 500k bit e quando la persona siccome tutti gli agriturismi sono stati validati ogni persona la persona che andava a validare l'agriturismo si faceva già dare l'ssd e la password che erano tutte cose che avevano già prefigurate per cui stazione 1 aveva già l'app lite 1 configurato per quella zona quando lui arrivava lì si collegava automaticamente già stati testati prima cosa è che faceva l'app sostanzialmente a una cosa che non ho detto tutti i partecipanti non potevano andare in internet e gli veniva ritirato il cellulare prima perché non potevano dire il nominativo che gli veniva assegnato provvisoriamente quell'istante per non far sapere il cellulare in realtà dopo un'ora si sa chi è perché dalla voce si riconoscono tutti però per questioni il nominativo ne ha dato un quarto d'ora prima e quindi cos'è che i piccino potevano fare andare in internet io ho fatto sia il NAT sia ho bloccato il forward perché perché la mia paura è che comunque uno riuscisse allora non sono hacker però non li conoscevo tutti i 120 la mia paura è che uno mandasse comunque un pacchetto anche se falsificato con il sorgente mandava comunque in internet se non è natato comunque esce e riusciva avere un'informazione e quindi riusciva a darla quindi ho bloccato tutto però hanno bisogno di due cose uno del dns perché tutto quel funzionamento del cellulare funzionava con degli nomi dominio locali il dns era locale e usava la porta quindi veniva ridiretta sul master la porta 53 e l'udp per l'ntp perché l'orologio è fondamentale per loro veniva anche il redirector sulla master cosa faceva il master intanto bloccava il traffico tra le varie postazioni permetteva solo traffico io parlo del traffico è solo interno la vpn perché esternamente non funzionava niente quindi all'interno la vpn veniva bloccato traffico tra le come si dice tra le postazioni c'era il blocco della vpn verso la one del master permetteva il traffico del knock e come ho detto prima faceva in realtà questo riceveva la porta 53 e la porta 123 e quindi rispondeva c'è un servizio dns interno quindi rispondeva solo a cinque nomi di domini che mi avevano fornito i produttori del cioè quelli che hanno fatto il software e c'erano solo quelli qualsiasi altra richiesta a parte time server microsoft time microsoft.com come alcune cose sulle ntp che abbiamo visto arrivavano e le ho messe dentro e le dirette in realtà sul mio ntp quindi non andava comunque da microsoft non c'era nessun pacchetto che usciva da di là il resto era tutto dava errore quindi se uno faceva vp.it gli dava errore fine come ho detto ogni app light faceva anche ntp sul master il master faceva ntp su un gps locale che ho io e quindi lì anche molto preciso anche se in questo caso mezzo secondo non cano un secondo di ritardo non cambiava niente perché ho scelto war guard sostanzialmente perché tanto era qualcosa di nuovo era per cambiare l'altra cosa è che è sicuro di per sé anche se a me la sicurezza in questo caso non me ne poteva fregare di meno perché non c'erano dati sensibili all'interno è veloce nella configurazione io ho fatto uno script in perl che mi generava gli ho dato fammi da 1 a 60 mi ha generato le configurazioni dell'app light le 60 configurazioni dell'app light che ho preso incollato sul mla importate e un unico fa di configurazione deve portare sul master per la parte vpn qua riguarda lato master quindi con uno script solo io non sono fatto già le in realtà 70 configurazioni in un attimo solo quindi era molto facile da fare e soprattutto rispetto a fatto due tre prove e la cpu soffriva molto meno rispetto l'app light veramente una cpu molto piccola per dare l'idea all'avvio per i primi trenta secondi la cpu era al cento per cento ora che facesse il client con il wifi eccetera ci impiegava un po essendo una non era un grosso problema perché venivano accesi il giorno prima della gara quindi avevano tutto il tempo per stabilizzarsi da mio parere è meglio un app non app light però ha funzionato lo stesso c'era lutta di backup com'è che funzionava questa cosa qui praticamente erano script dall'interno dell'app light che faceva una cosa faceva ogni cinque minuti la risoluzione del dns del vpn vrtc 2022 hit se questo per qualche motivo non cambiava era uguale a quello che lui aveva sull'interfaccia di peering verso il master rimaneva così se invece cambiava cioè gli davo quella del backup cosa succedeva lo script prendeva cambiava l'interfaccia della della collegamento remoto cioè del vpn appunto vrtc quella del master tirava giù l'interfaccia ritirava sull'interfaccia e la vpn riprendeva su quello nuovo quando ho fatto la quando ho terminato di fare la master io ho esportato solamente la configurazione l'ho importata sul backup ho solo cambiato i dati della one perché essendo su un altro data center aveva l'ip pubblico diverso ghetto è diverso fine a parte quella modifica tutto il resto era uguale identico quindi copiato importato cambiato quei due dati fine c'era monitoraggio il monitoraggio era fatto con duda dei microtik perché non l'ho fatto io se volete vi chiamo microtik o microtik come preferite ma non è uguale in italiano mi piace più microtik quindi c'era un monitoraggio che come queste sono tutte le postazioni che c'erano questa era durante la settimana ogni postazione aveva un suo nome era identificato da numero e da una sigla quelle che vedete sostanzialmente la sigla è la provincia bio e bologna quindi quella postazione quelle che vedete con bio sono bologna ferrara ravenna eccetera modena quello che c'era il rosso vuol dire che non era pingabile verde era pingabile a un certo punto il diciamo al venerdì mattina era così erano tutte pingabili quindi tutte le 60 stazioni sono erano pingabili adesso vi dico però in quanto abbiamo fatto questo perché alcune postazioni da una parte all'altra e poi aveva un'ora e mezza per arrivarci in macchina e questo era il noc che avevamo noi quindi avevamo un po di funzionava abbastanza qui c'era il monitoraggio sulla parte sinistra vediamo se c'è il mouse ecco questa parte qui qui c'era la mappa io avevo la mappa con tutte le postazioni per cui se mi diventava rossa io sapevo già le caratteristiche il nome del nome dell'agriturismo il telefono dell'agriturismo chi si occupava lì della rete perché c'era una persona che poteva occuparsi o lì vicino la distanza eccetera la persona di qua in questo momento perché era ancora durante l'installazione stava calcolando infatti si vede i percorsi per fare il giro per andare a fare le installazioni è quello che ottimizzava le installazioni e mandava le persone perché tutta questa cosa qua è nata dal primo luglio la gara era l'otto luglio quindi le 60 postazioni non sono state collegate due mesi prima ma sono state abbiamo iniziato io e la loredana lì il primo luglio facendo la parte in alto quindi ferrara e ravenna perché poi dal lunedì io mi sono spostato a castell san pietro e quindi abbiamo iniziato a fare quelle più vicino non eravamo in tante persone quindi in 60 postazioni che diciamo la domenica lasciamo perdere il 2 luglio non abbiamo fatto molto ma il primo luglio sabato primo luglio e poi da martedì abbiamo iniziato a fare tutto il resto la gara iniziava alle 2 di sabato e non ho detto una cosa dura 24 ore continua quindi non stop qualcuno diceva ogni tanto qualcuno va a riposare se qualcuno si alza 10 minuti e va a riposare ha perso la gara è sicuro di non aver vinto quindi nessuno va ci sono stati alcuni problemi tra cui una mancanza di corrente per 20 minuti ma lì non ci posso fare niente a tenete presente che software teneva in cash la roba per cui quando tornava su rispediva tutto quindi non c'erano problemi anche se stava giù cinque minuti non succedeva niente perché non è una cosa che serviva in tempo reale assoluto serviva solo per fare un calcolo i giudici ci hanno messo mezz'ora per decidere alcune cose per cui non era una se arrivava due minuti dopo soprattutto già state alcuni down perché l'rf di alcuni apparati vicino ai tenda disturbava il tenda quindi scoperto questo si diceva la fortuna era che comunque era wifi si prende il tenda stacchi la spina la malattacchi da un'altra parte e riprendeva funzionare fine questa cosa stranamente funzionato perfettamente per le 24 ore che mi sono fatto io e tutto il resto in piedi e alle due di domenica è finito tutto da lì poteva andare giù tutto a meno io ho finito questo è il team che ha montato le 60 postazioni quindi a parte due che vedete in grigio che sono del veneto il resto sono tutti da ragusa quindi il team era siciliano diciamo che loro c'è questo è il gruppo che ha montato 60 postazioni soprattutto quelli vestiti in cioè ragusani e che non smetterò mai di ringraziare perché per fare posso assicurare che delle volte andare dentro un agriturismo dovevi trovare la persona fare 15 di media si facevano 10 stazioni al giorno di media poi ci sono sempre stati i problemi dell'ultimo ok se ci sono domande io ho fatto molto però l'imprevisto la difficoltà tecnica o non tecnica che non ti aspettavi di incontrare che vi ha messo più in crisi allora ci sono state alcune sim della team in cui wire world non passava indifferentemente dal mtu da cambiato porte cambia perché sul guai web puoi scegliere qualsiasi porta di destinazione non non passava in quel caso l'abbiamo fatto ss tp perché la persona che sta a fianco e dove c'è un ss tp tutto va bene è un po lenta però perché traffico che passava quindi sono delle cinque stazioni che hanno in realtà erano in ss tp e non in wire world ora sinceramente se volevo siccome a me la sicurezza non ha non me ne fregava niente io ho rifatto anche gre nel senso che incapsulavo il pacchetto com'era e mi arrivava fine ed era molto ancora più leggero però mi piaceva wire world e quindi tutto qua che lavorone ma vi hanno ricoperto e poi di soldi e gloria no di gloria sì mi hanno ringraziato ma per soldi no anzi forse ci ho anche rimesso benzina diciamo che ero ero contento perché era una cosa che è stata fatta in italia probabilmente chissà quando non tornerà mai in italia probabilmente o chissà quando quindi era l'unica volta unica occasione me l'hanno chiesto e ho detto va bene più per fare bella figura che non ci ho provato insomma bene allora grazie mille a favore per aver condiviso la tua conoscenza ed esperienza qui all'esca 2023